o buongiorno dalla responsabile commerciale e marketing di virtual meeting matteo barberi oggi insieme vediamo esattamente un aggiornamento sulla funzione della soluzione live cioè la possibilità su singolo corso all'interno nostra piattaforma di fare sessioni in diretta abbiamo fatto un passo tecnologico notevole che vi permette che cosa caro cliente o futuro cliente sostanzialmente ad ogni singolo corso come voi vedete abbiamo inserito questa nuova icona che avvia un webinar live sul singolo corso per quello potete avviare più eventi live direttamente per quel tipo di corso in questo momento sono sul corso fan nel marketing all'interno della mia stanza e posso avviare una sessione in diretta vediamo quali sono i vantaggi di far una sessione diretta in un piano formativo e tutto l'abbiamo come già anticipato in altri video abbiamo inserito quello che viene chiamata la possibile tutto è integrato per questa è una versione nuova del nostro prodotto ok vm live che integrato nella piattaforma in questo caso nella piattaforma fab e learning che vi permette che cosa semplicemente il relatore all'interno del corso in questo caso corso market fan nel completo fa avvia trasmissione gli da l'ok punto e l'utente sostanzialmente cominciamo la nostra sessione in diretta per quello e poi interrompe la trasmissione punto io vado a interrompere la trasmissione che ho una di tutti gli utenti iscritti a quel corso possono vedermi sentirmi se attivo la chat avrò anche la chat in questo momento non l'ho attivata a pardon c'è la chat live da questa parte scusa non vedevo che l'abbio attivata lo posso tranquillamente condividere il la diretta con tutti i partecipanti della del mio corso marketing facile e fare dirette direttamente dalla piattaforma con una diretta e nel vostro piano formativo cambia praticamente quello che si chiama vendita del vostro prodotto la possibilità di costruire sessioni live ma che vantaggio ha che per me cambia la vostra panoramica di vendita è la prima soluzione che può essere seguita tranquillamente via mobile via tablet via smart tv via pc senza installare nessuna applicazione e ripeto queste soluzioni non prevede neanche adobe cosa vuol dire abbiamo deciso di investire in un'altra tecnologia per il live che permette a voi e ai vostri clienti di non installare neanche adobe flash e perché in modo tale che non devono fare proprio nulla prendono il cellulare si mettono col cellulare possono sentire la vostra diretta questo diminuisce lo spazio e la relazione con voi cosa vuol dire che avete la possibilità di interagire con molta più facilità nei confronti del vostro cliente e questo vi permette di essere competitivi la parola d'ordine nella nostra soluzione essere competitivi e creare relazioni con i vostri clienti a noi interessano i vostri clienti non altro non interessa che i vostri clienti possano avere un maggiore fruizzo dei vostri contenuti formativi in live come sempre sto proposto è molto complesso ok e non è funzionale al percorso formativo abbiamo voluto nominare questo sistema veramente easy e semplice semplice avvio del relatore una webcam del portatile e tutti gli utenti da casa con pc con quello che volete voi hanno sapendo che la piattaforma prevede come voi avete già chi già usa la piattaforma avete la possibilità di andare a pianificare sostanzialmente un calendario attività di poter interagire con loro in modo tale di andare in posta e mandare messaggi a tutti gli iscritti io posso dire ci vediamo domani o tutti i partecipanti ci vedranno a quell'ora quando si connetteranno alla piattaforma ok tra l'altro oggi in questo momento il login alla piattaforma è semplificato anche con login di facebook e di google in modo tale che potete accedere senza ricordarvi neanche le password in questo momento se avete ovviamente la parte di collaborazione e integrazione diciamo che oggi la piattaforma fa un passo in più verso quello che dico io la semplicità e la fruizione di contenuti il live che normalmente le piattaforme non non permette la titola diciamo è un modulo aggiuntivo con difficoltà di integrazioni software che di fatto portano all'allontanamento del sia vostro che dei vostri clienti oggi è tutto qua e qui da vedere non c'è niente di più niente di meno di quello del video che sto facendo io avete i nostri clienti che accederanno alla piattaforma e learning avranno un anno del live gratuito cioè possono usarlo senza un costo aggiuntivo e poi a e bloccheranno poi un price per l'anno successivo se vorranno continuare a utilizzare la soluzione live a condizione ovviamente molto molto competitive questa è la novità di questo intervento per adesso grazie e per qualunque info contattate for meeting e noi siamo a vostra disposizione grazie da matteo barbieri